Cari amici, siamo con Valentina Albanese, donna e anche e soprattutto pilota. Se sei pronta, andiamo! Eccoci, siamo a bordo della Leon Cupra 280 CV. Com'è questa macchina, Valentina? Ah, guarda, da guidare è veramente sorprendente. Oltre ad avere un motore potentissimo, perché siamo nell'ordine dei 280 CV, il che per una stradale a trazione anteriore non è assolutamente poco, ha una stabilità e un assetto veramente, veramente importante. Quindi i limiti sono altissimi, questo per strada conta relativamente e in pista te ne accorgi veramente. Una donna che ha corso e corre tanti campionati, ma com'è correre in pista con così tanti maschietti? Ah, guarda, è un'immensa soddisfazione. Devo dire, è uno dei pochi sport dove noi donne possiamo competere a darmi pari con gli uomini e questo chiaramente aumenta l'adrenalina. Poi in qualche occasione riusciamo anche a spuntarla e è una soddisfazione enorme. Per fortuna di questa passione ne ho fatto anche un lavoro e quindi ecco che siamo qui a provare la Leon Cupra in pista. L'errore più comune che una donna può fare al volante, in macchina? Questa è una domanda bellissima, perché c'è un errore molto comune che è chiaramente tipico delle donne. Sbagliare tipo di scarpe, perché ragazze io adoro il tacco 12, ma col tacco 12 non posso sicuramente fare una frenata di emergenza. Quindi mi raccomando, quando ci si mette alla guida o si sta con scarpe da ginnastica o ballerine o le si porta di scorta nell'abitacolo. Se proprio quel giorno ce le siamo dimenticate, togliamoci le scarpe e guidiamo scalze. Niente tacco alla guida. Bene, adesso un bel giro veloce con Valentina. Emozione intensa! Emozione intensa! Emozze 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 Valentina ci ha preso gusto ma purtroppo il nostro giro termina qui noi le auguriamo il prossimo anno di vederla nel super campionato di Puntini Puntini e quindi in bocca al lupo Valentina Forza!